Ma posso fare una pernacchia a volte? Ha detto Celeste, lo posso fare? Ha detto Celeste, ha detto fai la pernacchia, capito? Ha detto Celeste, non lo... Che effetto le fa tornare al Marassi contro la sua ex squadra? Ha fatto molto bene. Cazzo! Tommy! Allora, cazzo non ci capisco, che cazzo fai? Porca te! Scusate, ho fatto tardi, ero a fare l'amore. Cazzo, cominciamo?